La nostra sede universitaria nel mese di aprile vedrà aprire le porte con gli open day che sono delle giornate dedicate all'orientamento e in questi mesi principalmente gli studenti delle superiori dovranno fare una scelta importante per il loro futuro ovvero scegliere il loro percorso universitario i valori aggiunti di cittastudi sono moltissimi i docenti sono gli stessi di torino qua a cittastudi c'è si dà un'attenzione particolare alla cura dello studente ci sono servizi di orientamento in entrata ma soprattutto in uscita anche per facilitare l'introduzione nel mondo del lavoro degli studenti anche questa è un'altra cosa veramente importante tutti i percorsi di studi sono innovativi all'avanguardia il calendario didattico non è dispersivo le attività didattiche sono in sede il campus è a misura di studente e questo facilita i rapporti tra studente e studente ma soprattutto anche tra studenti e docenti e poi insomma abbiamo un meraviglioso campus moderno che con tutti i servizi che offre abbiamo la biblioteca che dà la possibilità a noi studenti di non dover per forza comprare i libri possiamo prenderli serenamente in prestito fare lavori di gruppo trovarci per studiare insieme abbiamo i campi sportivi che sono una bella valvola di sfogo anche per noi studenti le residenze universitarie anche per gli studenti che vengono da fuori biella insomma veramente è un campus moderno e con tutto all'interno potete venire appunto a toccare con mano la nostra realtà immersa nel verde quindi vi aspettiamo numerosi